no no, si fa si o venga dall'acqua mena quindi si è qua qui c'è guarda qui ah madonna così faremo eh si ma vediamo il tronco della città ah madonna no 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 ok questo non fa niente non fa niente non fa niente questo è una cagata calma è solo quello che ha salato ti mangi qua ciao beh solo quelle pezze no ma arriva quello potente eh solo quello è lui ma che ha legato se faccio beh la madonna no le mie scartine ma va ma questo è per i bambini i bambini piccoli proprio no ah 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 allora quella lì quando ha domandato non lo facciamo non lo facciamo quando ci andiamo quando ci andiamo quando ci andiamo ah ma la vecchia si aiutiti le mie giornate beh guardate non la piace ma lì ma lì ma lì le mie scherpe si faranno tutte tutte ma non si fa niente non entra là ce la voglio come entra la legge la videocamera come si sa che è meglio si perché guarda lì fanno la porta dove? quando scendi fanno la porta e io faccio lì ah oddio ah 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 tutto l'adrenaline in faccia vaga l'adrenaline salutate aiutiti aiutiti aiuto ti dovete aiutare io spavo la nostra solo che non posso scattare fuori perché mi ricordi che se io uscivo non so ma te la posso farlo ma forno ma forno Sì, dopo c'è la paneta, hanno gridato il molinaggio! sostanzialmente sainte! Quale sono? Ehllo! Sì, prepara la gente. Finito. Ciao